Andrea Camilleri, l'inventore di Mondi. E' questo il titolo della mostra bibliografica e documentaria che si terrà a Vibo Valencia, a Palazzo Santa Chiara, dal 12 al 23 dicembre. La mostra proporrà uno spazio espositivo dedicato esclusivamente a riproduzioni di testi di grandissimo interesse provenienti al fondo Camilleri, gestito dalla famiglia dell'indimenticabile scrittore siciliano. I Camilleri è un grande autore amato molto dal pubblico, amato dal lettore, con una facilità di dialogo, quindi anche interpretativa, una grande facilità. Una volta, forse anni fa, quando ancora c'era, soprattutto il teatro pubblico, avremmo potuto fare magari degli adattamenti teatrali a qualche testo di Camilleri, ma ormai con 10-12 personaggi chi lo mette più in scena. Ma la bellezza del dialogo, siccome abbiamo fatto la lettura di un paio di racconti col pubblico, il dialogo è facile da rendere perché Andrea Camilleri è un grande scrittore, un grande dialoghista.